Buon pomeriggio, sono contentissimo di essere tornato qua, non era l'anno scorso purtroppo perché l'anno scorso non si poteva fare nulla, ma mi dispiace che comunque come vedete il covid continua a imperversare quindi qui siamo pochi ma come ormai siamo abituati a fare siamo tanti a distanza, speriamo che a distanza ce ne siano tanti per davvero anche perché so benissimo, vi frego un bicchiere perché io sono un grande bevitore anche di acqua dopo ve lo faccio ridare e no mi dispiace perché voi che siete qui invece di quello che dico io sostanzialmente non vi importa niente perché siete qui presi dall'ansia e dalla preparazione e dalla voglia di dire quello che vorrete dire tra poco e dalla vostra battaglia al vostro agone che è la cosa più importante e quindi mi dispiace di infliggervi però cercherò di essere breve e partirei, quello in realtà di cui io vorrei parlare è proprio questo, il fatto di cercare di essere brevi ma anche del fatto di prenderci il nostro tempo voi qui parlerete seguendo diciamo il ritmo di una clessidra immaginaria ma insomma c'è un tempo mi pare di ricordare, ricordo bene e la clessidra ci dice una cosa molto interessante fin dai tempi che piacciono a noi ovvero sia che il tempo è finito il tempo è infinito ma per noi mortali il tempo è finito il tempo a un certo punto finisce voi oggi avrete un determinato tempo e va bene dopo verrà altro tempo ma per gli esseri umani mortali appunto dai nostri amici detti effimeri il tempo è finito ed è quindi la più grande ricchezza che noi abbiamo a nostra disposizione le altre ricchezze possono sopravviverci il tempo quello che abbiamo lo abbiamo e finisce lì quindi usare il nostro tempo è importante ripeto voi lo userete in una maniera precisa adesso, tra poco ma insomma qual è il tempo più importante? non è tanto quello del lagone che per ora per voi è certamente il più importante ma è un altro tempo che voi sicuramente riconoscerete altrettanto importante anzi forse fondamentale proprio in vista del lagone che è il tempo della scolè e io di questo oggi vorrei parlare voi state a scuola, tutti quanti sapete che scuola viene da scolè scolè in greco antico significa tempo libero ma non tempo libero in assoluto bensì tempo libero dalle necessità materiali tempo libero dal lavoro tant'è che il lavoro viene definito con l'alfa privativa davanti a scolè è la negazione del tempo che è il tempo con cui noi creiamo noi stessi e quindi il tempo che voi dedicate a voi stessi andando a scuola di questo tempo vorrei parlare poiché il tema di questa edizione del Festival del Classico è quello della libertà e della schiavitù bene, sì come questo tempo libero caratterizza l'uomo l'essere umano libero come questo tempo libero può essere utilizzato perché sia veramente utilizzato da un uomo, da un essere umano libero bene, ce lo dice Platone il vostro professore diceva che Platone è socraticissimo non lo so poi se è così socraticissimo Platone certamente faceva parte dei socratici certamente seguì Socrate per sette anni molti socratici lo detestavano e poiché io non sono così socratico preferisco pensare che Platone neanche fosse troppo socratico ma insomma queste sono stupidaggini ovviamente sapete tutti benissimo il personaggio principale di praticamente tutte le opere platoniche è Socrate, è il Socrate platonico e quindi di Socrate, di un Socrate platonico parleremo ora brevemente se no vi tolgo tempo a voi e questa è la cosa più importante davvero ma Platone appunto all'interno di uno dei suoi più grandi più bei dialoghi da un punto di vista letterario ovvero sia il Fedro ci spiega precisamente come si possa fare a individuare il modo di vivere bene il tempo libero la scolè e ce lo dice al centro di questo magnifico dialogo in un piccolo brevissimo ma intensissimo mito che è il mito delle cicale probabilmente molti di voi l'hanno letto ma insomma io adesso vorrei insieme a voi appunto rileggerlo visto che è brevissimo rileggerne la brevissima introduzione e il brevissimo racconto per capire in cosa consista veramente l'uso pieno della scolè sapete benissimo che Socrate e Fedro si trovano insieme sotto un platano sono usciti dalle mura di Atene cosa che Socrate non fa mai perché a Socrate non interessano alberi, piante interessano solo gli uomini dice a me non mi piace parlare con gli alberi perché gli alberi non rispondono lo dovrebbe dire a chi oggi parla con gli animaletti i pets il delirio del pet con cui tutti gli esseri umani oggi parlano ecco a lui non interessa uscire e parlare con animali che non sono dotati di logos interessa parlare solo con gli esseri umani quindi non esce mai da Atene ma in questa occasione esce da Atene si siede sotto un platano assieme a Fedro e si parla si parla di amore, di Eros eccetera a un certo punto il caldo è soffocante c'è proprio quell'ora dominata da panna che noi appunto chiamiamo ora panica o come chiamiamo al meridione contro ora perché va contro le leggi classiche del tempo e allora Socrate dice ma vogliamo continuare a parlare gli dice Fedro Fedro dice certo che vogliamo continuare a parlare sono interessatissimo di questo nuovo argomento di cui si parlerà per il resto la restante metà del dialogo e Socrate gli risponde così e tempo ne abbiamo per rispondere e mi sembra pure che come conviene nel pieno dell'afa le cicale sopra il nostro capo cantando e conversando fra loro non mancano di osservarci se poi vedessero noi due far come quelli del volgo sotto il mezzogiorno non ragionare ma starcene a bocca chiusa e sonnecchianti ammaliati da loro con le menti in ozio avrebbero ragione di deriderci e di scambiarci per un paio di schiavi venuti come pecore presso la loro dimora ad appisolarsi il meriggio vicino alla fonte ma se ci vedono a conversare continuare la nostra rotta insensibili al loro incanto di sirene forse ammirate ci procurerebbero il dono che gli dèi hanno loro concesso di distribuire agli uomini bene poche parole introduttive di quello che sarà appunto il cosiddetto mito delle cicale che però dobbiamo brevemente commentare perché voi vi occupate di questo sapete che qualsiasi traduzione non potrà mai rendere ovviamente la ricchezza la potenza la forza e l'originale e quindi due cose le dobbiamo dire e tempo ne abbiamo per rispondere cosa traduce tempo? tempo traduce scolè ovvero sia tempo libero dal lavoro qui siamo in una situazione di tempo libero dal lavoro siamo noi che conversiamo che non siamo costretti a lavorare per soddisfare le nostre necessità materiali ma possiamo passare il tempo chiacchierando abbiamo chiacchierato finora di Eros chiacchiereremo adesso di retorica bene abbiamo il tempo libero ciò che secondo Socrate Platone Aristotele è la più grande ricchezza degli esseri umani ciò che li rende veramente liberi perché un uomo libero è libero perché ha il tempo libero mentre lo schiavo è sostanzialmente costretto a lavorare sempre e sì possiamo dire che ciò che distingue lo schiavo dall'uomo libero dallo schiavo è che ha la possibilità di partecipare alla vita politica però possiamo dire anche in maniera più ampia che l'uomo libero ha soprattutto il tempo libero però questa definizione a Platone non basta e dice una cosa stupenda qui già nell'introduzione al mito che poi spiegherà tutto quello di cui stiamo parlando ora dice che in questo tempo libero se le cicale che stanno cantando ci vedessero che ci mettiamo a dormire ci considererebbero come fanno dice quelli del volgo quelli del volgo traduce i molti i polloi quindi insomma la maggioranza delle persone la maggioranza delle persone nel tempo libero che fa qui l'ora del meriggio le cicale cantano si mette a dormire riposa sonnecchia sbadiglia e dorme la classica siesta potremmo dire ecco se ci vedessero fare questo sosterrebbero che siamo come degli schiavi venuti qui come pecore a dormire perché? perché Platone sta facendo una distinzione nel tempo libero dal lavoro noi possiamo comportarci in due modi possiamo o metterci a dormire per riposarci e poi riprendere il lavoro o possiamo sfruttare il nostro tempo libero facendo cosa adesso lo vedremo chiacchierando ovviamente dice adesso per ora Platone ma questo già è fondamentale la scolè il tempo libero il tempo libero dal lavoro non significa che noi siamo liberi siamo liberi se sappiamo utilizzarlo se noi quel tempo libero lo utilizziamo semplicemente per riposare e poi tornare al lavoro siamo schiavi perché pensiamo solo a lavorare siamo dominati dall'idea del lavoro e allora sì la nostra vita il nostro tempo è una linea no? retta passato presente e futuro e noi progettiamo pianifichiamo pensiamo solo a lavorare ogni tanto ci prendiamo del tempo libero per riposare dormire riprendere le forze e riprendere a produrre riprendere a lavorare quel tempo libero non è più tempo libero è una semplice pausa in cui appunto dormiamo come schiavi vi ha già sostanzialmente detto tutto ma è quello che ci dice poi splendidamente nella breve formulazione di questo mito che è molto probabilmente di invenzione platonica la storia è che una volta le cicale erano esseri umani viventi prima della nascita delle muse e che quando le muse nacquero e comparve il canto alcuni di questi esseri umani a tal segno furono storditi dal piacere che per cantare scordavano cibo e bevanda e neppure si accorgevano di morire da costoro e in seguito a ciò salto fuori la famiglia delle cicale alle quali le muse concessero il favore di non avere affatto bisogno da che sono nate di alimenti ma di poter cantare subito senza mangiare e bere fino alla morte allora già qui è tutto chiaro ma adesso viene il bello ovvero sia gli esseri umani quando comparvero le muse e portarono il canto furono presi dalla bellezza del canto non smettevano di cantare si dimenticavano di mangiare e bere e morivano da questi gli dèi hanno provveduto da questa capita spessissimo nei miti antichi da questa stirpe umana è nata la stirpe invece delle cicale che sono animali che hanno la possibilità di cantare tutta la loro vita senza aver bisogno di mangiare e di bere fino alla morte bellissimo ma Platone ci dice ancora qualcosa di più queste cicale hanno avuto dagli dèi il potere appunto di cantare senza mangiare e bere fino alle morte e dopo di andare presso le muse a riferire chi le onori sulla terra e quale di esse ciascuno veneri a ter sicore dunque le cicale menzionano gli uomini che l'hanno venerata con le danze e così li rendono assai cari alla musa a erato parlano di quelli che la venerano in canti d'amore e alle altre muse ugualmente secondo l'arte per cui ciascuna è onorata alla più anziana Calliope e a Urania che le viene indietro le cicale menzionano quelli che passano la vita a filosofare e che così onorano l'arte musica propria di quelle perché queste due soprattutto le altre muse presiedendo alle cose celesti occupandosi dei discorsi divini e umani emettono il canto più soave ecco perché abbiamo mille ragioni per discorrere invece di starcene a dormire nel mezzogiorno ecco qua le cicale che hanno sostituito gli uomini cantando tutta la vita osservano mentre cantano come si comportano gli esseri umani e quando muoiono vanno dalle muse e raccontano chi degli esseri umani si è messo semplicemente a dormire come uno schiavo chi degli esseri umani è stato ha passato il tempo a danzare lo riferiscono a una musa chi ha passato il tempo a cantare canti di amore a un'altra musa eccetera eccetera così per tutte le nove muse figlie di Nemosione come sapete bene beh è un mito bellissimo attualissimo perché voi siete qui perché gli antichi non sono attuali oggi e vanno attualizzati ma perché sono sempre già stati attuali sono eterni vanno al di là del momento in cui creano le loro storie e al di là del momento in cui quelle storie vengono riraccontate sono storie che vanno al di là dei tempi e questo è perfetto per i nostri tempi c'è un un mondo culturale eh tra virgolette dominato dal dall'ansia del lavoro dal dall'idea che si debba solo lavorare e che il tempo libero sia una pausa ricreativa prima di rimettersi a lavorare eh che è un sostanzialmente il mondo protestante che domina ai nostri giorni e che infatti non a caso ci condanna noi mediterranei chiamandoci cicale beh noi possiamo dire loro che siamo fierissimi di essere cicale che siamo assolutamente orgogliosi di aver capito che la vita non è solo lavoro e per essere liberi non si può dipendere dal lavoro quel mondo lì ha coniato appunto una parola per definire la dipendenza dal lavoro che è tipicamente loro che è workaholic ovvero sia una specie di alcolismo da lavoro e speriamo di non esserne troppo presi perché noi per essere liberi sappiamo che possiamo utilizzare il nostro tempo libero nel modo migliore il modo migliore qual è? è quello che capita a voi a scuola cosa fate voi a scuola? a scuola voi studiate per creare la vostra personalità voi potete pensare che il vostro tempo libero è il tempo libero sottratto a quello della scuola ma in realtà il vostro tempo libero è proprio il tempo libero che occupate nella scuola studiando per creare la vostra personalità per creare il vostro spirito critico per creare le vostre capacità di critica oggi qualcuno potrebbe rispondermi e l'hanno fatto perché spesso io racconto queste cose nelle scuole che la scuola è un obbligo sì la scuola è un obbligo ma è un obbligo perché prima non essendo un obbligo molti ragazzi non obbligati purtroppo invece dovevano erano costretti a lavorare quindi diciamo che la scuola è pur sempre comunque il tempo libero dal lavoro e anche per questo possiamo dire tranquillamente che l'alternanza scuola-lavoro è una grande vogliata ma insomma comunque a parte queste piccole stupidaggini questo per dirvi che io sono sempre felice di parlare qui a voi particolarmente fieri di essere cresciuti nelle scuole perché la scuola la scolè è il tempo che forma le nostre coscienze la nostra capacità critica è il tempo libero che solo utilizzato nel modo migliore rende noi uomini liberi voi adesso avrete poco tempo per parlare delle vostre cose usatelo bene a chi ho tolto il bicchiere adesso lo riporterò immediatamente usate bene il vostro poco tempo ma poi cercate di usare molto meglio il vostro tempo libero in bocca al lupo grazie grazie grazie